buongiorno da obiettivo news oggi 9 aprile san demetrio e tessalonica oggi è la giornata internazionale dell'unicorno celebra la magia il mistero degli unicorni creature mitiche che continuano a incantare l'immaginario collettivo l'unicorn day un giorno speciale per celebrare la più affascinante creatura mitologica di tutti i tempi simbolo di purezza e magia amato da adulti bambini l'unicorno è parte integrante della nostra cultura fiabe cinema letteratura musica non c'è un'arte che non l'abbia celebrato almeno una volta per questo nasce l'unicorno day una giornata per ricordare a tutti come la fantasia sia un ingrediente fondamentale per una vita felice oggi è anche la giornata nazionale della vignarola contorno romano a base di calciofi piselli e fave e la giornata internazionale dei chinese almond cookies biscotti di origine cinese preparati con un impasto a base di fagioli verdi detti monk beans burro zucchero acqua e guarniti con mandorla tra i nati in questo giorno nominiamo fatti bravo 1948 charles baudelaire 1821 e gianmaria volontè 1933 tra i scomparsi ricordiamo regista cinematografico sidney lumet 2011 vendici no 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 no